ciao a tutti benvenuti o bentornati sul canale oggi voglio mostrarvi come ho realizzato questo bellissimo scialle rettangolare utilizzando il filato che l'azienda l'anne di biella cofil mi ha gentilmente inviato l'azienda l'anne di biella cofil è un'azienda italiana si trova a mongrando in provincia di biella ed è un'azienda a conduzione familiare è leader nel settore da oltre 30 anni vende filati italiani prodotti sul territorio biellese e sappiamo tutti che il territorio biellese è famosissimo in tutto il mondo per la produzione di filati di pregio l'azienda mi ha inviato questo filato che io non avevo mai utilizzato e devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla qualità di questo filato è un misto lana è un gomitolo da 90 grammi e l'azienda lo vende a questo prezzo competitivo proprio perché è una grammatura un po fuori dal normale sono infatti 90 grammi generalmente i gomitoli sono da 100 grammi quindi questo essendo da 90 grammi l'azienda riesce a venderlo a questo prezzo perché se fosse stato un gomitolo da 100 grammi quindi con una grammatura standard il prezzo sarebbe stato veramente molto molto più alto perché ha un filato veramente di qualità è un misto lana un 60 per cento di lana e 40 per cento di acrilico è morbido soffice il capo che ho realizzato guardate quanto è voluminoso è di una morbidezza unica e assoluta il filato è leggermente pelosetto ma nonostante questo credetemi non dà nessunissimo problema io non tollero i filati di lana i filati pelosi perché mi danno allergia questo capo invece io l'ho già indossato e devo dire che l'ho portato tutto un pomeriggio e non ho avuto nessun tipo di problema in catalogo questo filato è presente in tantissime varianti di colore date un'occhiata al catalogo e poi resterete veramente stupiti sia dal da questo filato dalle nuanze di colore sia anche dagli altri filati perché l'azienda l'anne di bella cofile ha implementato il catalogo con dei filati di alta moda filati veramente stupendi date un'occhiata perché ne vale la pena allora cominciamo subito con il nostro progetto gli ho utilizzato questa variante colore rosso con delle sfumature viola sfumature marroni è veramente molto bello però credetemi mi piace tanto anche questo colore qui il prossimo progetto sicuramente lo realizzo con questo colore allora uncinetto numero 8 il punto è un multiplo di tre e quindi non ci resta subito che cominciare con il progetto io lavorerò su un campione ridotto in quanto difficoltà oggettive nello sviluppo dello schema non ce ne sono allora multiplo di 3 più 3 queste 3 catenelle mi sostituiscono il primo punto alto ora 1 2 3 nella quarta catenella vado a realizzare un punto alto proseguo facendo tutto il primo giro di punti alti ho terminato tutta la prima riga ed ora faccio 3 catenelle 1 2 e 3 volto il lavoro un punto alto nel punto seguente in questo modo faccio 2 catenelle 1 e 1 2 salto due punti di base ed ora vado a realizzare tre punti alti uno in ogni punto sottostante 2 catenelle 1 e 1 2 salto due punti nel terzo vado realizzare ancora un punto alto un punto alto nel punto seguente è un altro punto alto nel punto successivo 2 catenelle e prosegue con questo schema fino alla fine della riga la riga termina con un punto alto ora faccio 4 catenelle 1 2 3 4 e rivolto al lavoro all'interno dello spazio sottostante vado a lavorare 3 punti alti 1 2 e 1 3 ecco fatto in questo modo ora faccio 2 catenelle di separazione 1 e 1 2 e vado a lavorare ancora 3 punti alti all'interno dello spazio sottostante prosegue con questo schema per tutta la riga quindi tre punti alti nello spazio sottostante e 2 catenelle di separazione nell'ultimo spazio di fine riga lavoro due punti alti una catenella e un punto alto nella terza catenella di inizio lavoro ecco in questo modo ecco ho terminato la mia riga a scusate mi ero accorta che non avevo fatto le due catenelle di separazione quindi ripeto tre punti alti nello spazio sottostante due catenelle di separazione e tre punti alti nello spazio seguente ho terminato il lavoro con due punti alti una catenella un punto alto 3 catenelle e volto il mio lavoro adesso nello spazio di separazione delle due catenelle vado a lavorare 1 2 3 punti alti una catenella di separazione e all'interno dello stesso spazio vado a lavorare ancora tre punti alti 1 2 e 1 3 in questo modo adesso passo subito a lavorare nell'altro spazio di separazione dove vado a fare tre punti alti 1 2 e 1 3 una catenella di separazione e ancora un punto alto all'interno dello stesso spazio di base vedete e lo schema il diagramma è veramente molto molto semplice da realizzare proseguo con questo schema per tutta la riga ho terminato la riga con un punto alto ora faccio 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado a lavorare nello spazio di separazione fra i due gruppi di punti alti e vado a fare tre punti alti 1 2 e 1 3 ora faccio 2 catenelle di separazione una e una due e vado a lavorare ancora tre punti alti all'interno dello spazio e di separazione del giro precedente vado a ripetere lo schema che ho realizzato nel secondo giro dove ho fatto i tre punti alti quindi 1 2 3 2 catenelle di separazione e tre punti alti all'interno dello stesso spazio proseguo fino alla fine della riga termino la riga con un punto alto 1 2 3 e la terza catenella di inizio lavoro adesso devo ripetere lo stesso schema perché il diagramma da ripetere è sempre questo vi faccio vedere come proseguire ho terminato con un punto alto 4 catenelle volto il lavoro all'interno dello stesso spazio sottostante vado a lavorare due punti alti 1 e 1 2 ora passo nello spazio seguente e vado a lavorare tre gruppi di punti alti 1 2 e 1 3 un punto una catenella di separazione e ancora tre punti alti all'interno dello stesso spazio i moduli da seguire sono soltanto due in un giro dovete lavorare i gruppi di tre punti alti intervallati separati fra di loro da due catenelle e nel giro seguente invece nello spazio delle due catenelle dovete lavorare tre punti alti una catenella e tre punti alti vedete ho scelto veramente uno schema un molto 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 semplice da realizzare però credetemi è veramente d'effetto 12 e 13 una catenella di separazione e ancora tre punti alti 12 e 13 allora abbiamo cominciato con 4 catenelle due punti alti perciò il lavoro finirà con due punti alti 1 e 12 una catenella di separazione e un punto alto 123 nella terza catenella di inizio lavoro ecco fatto il diagramma da seguire è sempre questo vedete nonostante sia uno schema molto semplice però avete visto in anteprima com'è d'effetto il punto è veramente molto particolare potreste obiettare guarda il punto è troppo traforato quindi sicuramente il lo scialle non terrà bello caldo assolutamente no perché è un filato che scalda veramente molto quindi ho scelto proprio un punto traforato un punto d'effetto perché sapevo che sarebbe stato un capo molto caldo io ho lavorato tutto un gomitolo seguendo questo schema successivamente sono andata a realizzare quando ho terminato il gomitolo sono andata a realizzare quattro punti alti per come bordatura per staccare un pochettino per spezzare un po la disegno in pratica per spezzare un po lo schema quindi terminate il gomitolo e poi fate un punto alto in ogni punto sottostante procedete in questo modo 3 catenelle all'interno dello spazio di separazione dei punti alti delle del giro sottostante andate a fare due punti alti poi un punto alto in ogni catenella sottostante quindi 1 ogni catenella scusatemi ogni punto alto sottostante punto alto in questo modo io nello spazio di separazione non entro nel punto altrimenti si allarga troppo entrate direttamente nello spazio contate mi raccomando ecco questo è un piccolo trucchetto contate bene i punti di avvio e quando andate a realizzare il primo giro di punti alti contate che guardate bene che i punti equivalgano perché altrimenti il lavoro poi si deforma adesso il lavoro sembra storto perché la lana veramente molto soffice ma credetemi poi quando andiamo a realizzare il bordino il lavoro si sistema è molto morbido credetemi sono veramente soddisfatta di questo filato ora fate quattro giri di punti alti io ne faccio soltanto uno per accelerare un pochino il video tutorial ecco ho terminato tutto il primo giro di punti alti ora fate 3 catenelle voltate il lavoro e proseguite facendo quattro giri di punti alti successivamente dovete riprendere il modulo facendo le catenelle 3 punti alti 2 catenelle di separazione saltate due punti di base e nel terzo punto cominciate ancora il gruppo di tre punti alti quindi andate a ripetere questo modulo ancora fino a quando non avete finito il gomitolo terminato il gomitolo fate ancora quattro giri di punti alti e con il gomitolo nuovo ripetete poi lo stesso schema io ho utilizzato ecco questo questo capo va un po modellato sulla fisicità delle persone io non sono molto alta anzi piuttosto sono piuttosto piccolina e quindi per me è stato sufficiente utilizzare tre gomitoli di filato ecco fatto vedete ho fatto il primo gomitolo quattro punti quattro giri di punti alti il secondo gomitolo con il modulo che vi ho illustrato quattro giri di punti alti e poi ho fatto l'ultimo gomitolo in totale ho raggiunto una lunghezza di adesso aspettatevi dico la misura precisa il mio lavoro misura 130 cm esclusi bordi i bordi sono 10 cm da un lato e 10 cm dall'altro in totale la mia stola misura un metro e mezzo questa misura si adatta alla mia fisicità alla mia altezza se voi avete l'esigenza di avere un capo più lungo uno scialle una stola più più lunga proseguite tranquillamente con lo schema che vi ho illustrato una volta che avete terminato di realizzare che avete raggiunto la lunghezza desiderata rifinite il lavoro con un giro di punti alti perché adesso vi mostro come fare il bordo di rifinitura ecco facciamo finta che io abbia raggiunto la lunghezza desiderata ho terminato con il gruppo di punti altri di tre punti alti e ho fatto tutto il giro di punto alto allora faccio 3 catenelle 1 2 e una 3 e volto il mio lavoro filo sull'uncinetto scavallo il punto e vado a realizzare un punto in rilievo davanti filo sull'uncinetto punto l'uncinetto sul retro del lavoro scavallo il punto estraggo il filo e vado a lavorare il mio punto alto filo sull'uncinetto scavallo il punto dalla parte anteriore estraggo il filo punto il rilievo davanti filo sull'uncinetto scavallo il punto sotto estraggo il mio filo punto il rilievo dietro proseguo con questo schema per 10 cm dovete lavorare in giri di andata e ritorno punto su punto dove c'è il punto alto il rilievo davanti lavorate il punto alto il rilievo davanti dove c'è il punto il rilievo dietro lavorate il punto il rilievo dietro proseguite con questo schema per 10 centimetri ecco per cominciare il giro nuovo come sempre con i punti rilievo si fanno tre catenelle una due tre si volta al lavoro filo sull'uncinetto vedete c'è al punto il rilievo davanti quindi anche qui lavoro il punto rilievo davanti punto successivo al punto rilievo dietro e quindi lavoro punto su punto come si presenta al lavoro proseguo con questo schema per 10 centimetri dopo aver lavorato i miei 10 centimetri sul lato della mia uscialle capovolgo il lavoro e vado a realizzare lo stesso schema lo stesso bordo anche sui punti alti di avvio lavoro quindi facciamo conto che io abbia lavorato 10 centimetri giro il mio lavoro punto il filo all'interno della terza catenella di inizio lavoro e vado a lavorare anche qua 10 centimetri di punti rilievo 11 quindi un punto alto rilievo davanti e un punto alto il rilievo dietro dopo aver lavorato il bordo sui due lati vedete sui due lati corti bisogna andare a realizzare lo stesso bordo anche sul lato lungo quindi ripeto lo stesso procedimento faccio tutto il primo giro di punti alti quindi inizio col punto alto e termino col punto alto per tutta la lunghezza dello scialle e proseguo lavorando un punto alto rilievo dietro e un punto alto rilievo davanti per 10 centimetri faccio lo stesso bordo anche sulla parte inferiore del lavoro quindi tutto il perimetro del mio scialle è realizzato con il punto in rilievo il mio scialle misura 52 centimetri di altezza anche qui potete realizzare tutta l'altezza che volete potete farlo di qualsiasi altezza l'importante è che voi e teniate conto del multiplo di 3 del punto ecco fatto allora il lavoro poi si presenta in questo modo vedete mi raccomando prima lavorate ci sono un pochino di pelucchi scusatemi allora prima lavorate i due bordi più corti quindi il bordo iniziale e il bordo finale del lavoro successivamente andate realizzare il bordo sulla parte lunga della stola dello scialle chiamatelo insomma come volete in modo che poi riusciamo ad avere guardate l'incrocio se riesco a inquadrarlo tutto riusciamo ad avere l'incrocio dei punti in questo modo vedete ecco fatto adesso devo ancora agganciare i fili di lavorazione non fateci caso e lavoro poi si presenta in questo modo vedete è un progetto veramente semplice da realizzare però è molto d'effetto guardate che meraviglia di punto poi il lavoro e soffice bello caldo io ho utilizzato 5 gomitoli di questo filato però in descrizione vi metto tutte le misure vi metto la quantità esatta di filato ho preso appunti così almeno vi do proprio tutte le misure precise e adesso sistemo tutti i fili di lavorazione metto il mio scialle sul manichino e vi mostro il risultato finale il progetto è terminato e questo il risultato finale avete visto ho scelto un progetto veramente molto semplice per dare la possibilità anche meno esperti di poter realizzare un capo invernale molto caldo e molto bello molto d'effetto io vi saluto vi ringrazio se il capo che ho realizzato vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti vi do appuntamento al prossimo video tutorial che sarà realizzato con i filati di lana di biella cofil ciao